Hi guys! Oggi vi parlerò dell'idioms, i miei preferiti con l'uso delle parole che riguardano il cibo. Food idioms possiamo chiamarlo questo tipo. Cosa sono gli idioms prima di tutto? Sono dei modi di dire, modi di uso comune come abbiamo noi in Italia, anche in inglese, ce ne sono veramente tanti, centinaia e centinaia, che anche gli stessi inglesi a volte non sanno, non ricordano. Quindi in questo video vi ho riassunto alcuni dei più importanti, ma soprattutto quelli che a me piacciono di più, che riguardano l'argomento cibo. Tenete presente che il cibo non c'entra nulla in questi idioms, però viene utilizzato per dire qualcosa che ha un significato nettamente diverso rispetto alla parola letterale. Quindi se voi andate a cercare parola per parola, vi dice qualcosa che riguarda il cibo, ma invece nell'insieme il significato è tutt'altro. Iniziamo con il numero uno. Number one. A piece of cake. Vuol dire qualcosa di semplice e facile da fare. A piece of cake. Per noi italiani è facile come versi un bicchier d'acqua, ad esempio. I passed my exam. It was a piece of cake. Number two. To put all your eggs in one basket. Vuol dire puntare tutto sul rosso, per dire, no? Come non si gioca al casino. Mettere tutte le uova che hai nello stesso paniere. My uncle invested all his savings into a company. I don't know why he put all his eggs in one basket. Number three. To be in a pickle. Questo modo di dire si usa quando si è in difficoltà o quando arriva un problema da risolvere. Normalmente, quando il problema è meno grave del solito, si utilizza in a bit of a pickle. We are in a pickle. Abbiamo un problema. Siamo messi male. Ok? Oppure. I have just locked my keys in a car. O ancora. I'm in a bit of a pickle. I forgot my glasses. Number four. To bite off more than can chew. Vuol dire fare il passo più lungo della gamba. She's bitten off for more than she can chew, ad esempio. Quindi ha fatto il passo più lungo della gamba. Number five. To butter someone up. Vuol dire arrufianarsi qualcuno per ricevere qualcosa. Ad esempio. If we but rim up, he might offer it us. Number six. In a nutshell. Vuol dire per riassumere qualcosa in poche parole. In a nutshell, that's the difference between the two stories. Bene, questi sono i miei idioms preferiti relativi a vocaboli sul cibo. Se ne conosci qualcuno di diverso o di nuovo, scrivilo pure qui sotto nei commenti. Lo condividiamo insieme. E se non sei ancora registrato al canale, ti invito a cliccare su iscriviti e ad attivare la campanella in modo da non rimanere indietro con i nuovi video in uscita. Intanto, I will see you next time. Bye Grace.